Ok, cominciamo da qua, qui ci siamo, sono aperti, sono su questi, la pompa è già on, questo è il primo no? E' un po' bella, un padre, brutto il servore, perché? E' un po' bella, qui? Non c'è un carcere, non c'est testo il chamo. C'è un po' di fronte a me l'air. E' un po' di più